28 maggio 1974, Brescia, alle ore 10 in piazza della loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 94. La strage di piazza della loggia è un altro episodio della strategia della tensione, una lunga scia di attentati, da piazza Fontana alla bomba alla questura di Milano, al treno Italicus, che insanguinano l'Italia dal 1969 al 1984.